La sede della Regione Abruzzo nella City non conviene e non si può fare. Sono queste le ragioni che hanno spinto il Movimento 5 Stelle a presentare l'esposto da cui sono scaturiti gli avvisi di garanzia recapitate ai dirigenti ed amministratori comunali di Pescara, tra i quali l'ex sindaco Luigi Albore Mascia e l'ex assessore Marcello Antonelli. Il consigliere regionale Domenico Pettinari si chiede non solo come mai si pensi di fare oggi nella City ciò che ieri era stato bocciato nell'ex fonderia Camplone, ossia la sede della Regione, ma anche come questo possa conciliarsi con il piano di rischio aeroportuale. Le normative nazionali imponcono di razionalizzare gli uffici in eccesso, gli spazi in eccesso della Regione Abruzzo. La Regione Abruzzo oggi paga 1.100.000 euro l'anno di canone di locazione per gli uffici su Pescara. Secondo il nostro studio potremmo abbattere quel canone a circa 200.000 euro, quindi dismettendo gli uffici in eccesso, gli spazi in eccesso. Con l'operazione della City invece andremo a pagare circa 1.800.000 euro l'anno di affitto, quindi oltre 600.000 euro in più di quello che paghiamo oggi, e poi entro i tre anni eventualmente optare per l'acquisto e pagare un prezzo totale di 42 milioni di euro. Secondo noi non è conveniente. Al di là di questo la City insiste su una zona rossa, come la chiamo io, una zona di tutela, perché c'è un piano di rischio approvato dal Comune di Pescara che prevede espressamente che in quella zona non si può realizzare la sede della Regione Abruzzo, in maniera chiara e incontrovertibile. Perché se esistono in Italia delle zone rosse, delle zone di tutela, significa che in eventualità di incidenti aerei, quelle zone non ci devono stare più di un tot di persone. Ecco, il trasferimento di tutti i dipendenti della Regione Abruzzo su Pescara, cioè sono circa 702 persone che stanno lì a lavorare tutti i giorni, dalla mattina alla sera, più tutto l'indotto, tutte le persone che andranno lì per servirsi dei servizi, il carico antropico, a mio avviso, si aumenta. Ma al di là di questo problema, è proprio vietato dal piano di rischio aeroportuale. L'inchiesta faccia il suo corso, a noi ci interessa poco. Quello che ci interessa, io nei prossimi giorni inviterò il vertice dell'Amministrazione Comunale di Pescara, il vertice della Regione Abruzzo, a bloccare quest'operazione, secondo noi, nell'interesse generale dei cittadini.